Carmelo, a te cercavo. Ho bisogno che mi distampi a con degli alunni, ora. Non lo vedi che sono in laboratorio? Per fatto dovrei scendere al chilo a prendere tutti i dati. Scusami, ma devo insistere. Ho gli alunni in classe che fanno casino. Non posso lasciare la classe scoperta. Certo, poi magari è un po' l'ombanco e mi tocca pure chiamare il preside. Carmelo, ti sto chiedendo un favore. Te ne ho mai chiesto io? Non me lo puoi chiedere un altro momento. Adesso ho anche i disegni di quinta da stampare che domani è la simulazione dell'esame. Facciamo così, io ti stampo i disegni e tu vai su a prendermi il foglio. Va bene. Mi raccomando il caffè. Ok.